A Pesaro il Teramo tornerà al 3-5-2, almeno questa è la sensazione avuta dopo la conferenza stampa del tecnico Maurizzi. Fermi ancora i box Speranza e Ventola, rientrano Caidi e Piacentini che insieme a Fiordaliso formeranno il trio di difesa davanti a Lewandowski. A centrocampo Mantini e Celli sulle fasce, in mezzo Persia, Proietti e De Grazia, in avanti il tandem Zecca-Piccioni. La Vispesaro è nata da Colucci e terza in classifica con 26 punti e la seconda difesa del Girone con 11 reti subite, anche se mancherà per squalifica a Gennari una pedina importante. In squadra c'è l'ex Bianco Rosso Olcese a segno finora già cinque volte. Impegno che dunque rimane molto difficile. Telegrafico, il tecnico Maurizzi. Più ci avviciniamo alla partita e più siamo consapevoli che andiamo a giocare contro una squadra molto aggressiva e che abbiamo esigenza di fare punti e quindi anche noi dovremmo esserlo per portare via punti da questo campo.